Hanno dominato nell'ultima partita, sono curioso di vedere cosa faranno oggi. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Si schierano in campo col 4-5-1 che dovrebbe dare copertura e garantire superiorità numerica in mezzo al campo. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo. E c'è subito questo intervento falloso. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Rubano bene palla. E il portiere recupera il pallone. Prova a sorprenderlo, tira il respinto dal difensore. Si riparte col calcio d'angolo. Prova in acrobazia, colpa di testa sulla traversa. Un bel colpo di testa, non preciso. Schwarz. Occhio, cerca l'area di rigore. Se l'è bevuto, si è liberato dalla marcatura. In velocità, è sempre molto difficile. Buona la trama. Occhio alla botta. Grande intervento del portiere. E sarà calcio d'angolo. Cerca la porta. Salva la propria porta con un grande intervento in tutto. Parte il cross. Prova la botta. Palla in out. E dunque calcio d'angolo. L'uscita del portiere di pugno. Colpisce di testa. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Perdono palla. E c'è il tiro. Sarà a corner a disposizione. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Gran tiro. Tiro murato. Il portiere debia involontariamente il pallone in porta. Hanno finalizzato alla grande una splendida manovra. Approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della ripresa avversaria. Colpo di testa vincente. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo va tutto molto bene per Aldo. Fin solito però dovevano marcare meglio l'autore del gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Ed ecco dunque arrivato il primo gol. E' riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Buono il recupero. Possono ricominciare. C'è il traversone. Senza problemi. Intervento comodo del portiere. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Schwarz. Schwarz. Prova a rubargli il pallone. Riconquista il pallone. Buono l'1-2. Nessun problema con l'uscita del portiere. Buono l'1-2. 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 Ha un'autostrada a disposizione Schwarz, il portiere, dice di no Restituisce bene il pallone Palla che finisce fuori Schwarz Roma e il pallone finisce in gol È il suo secondo gol personale Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2 a 0 Intercettano bene il pallone e provano a ripartire Recupera il pallone con un intervento facile L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore Spazzano senza problemi Occhio al cross Ha provato il cross Ma nulla da fare qui Schwarz Ecco il tiro Rete, splendida rete Tegnano ancora e allungano sugli avversari A questo punto una rimonta diventa praticamente impossibile Un dominio fin qui assoluto in questo match E siamo ancora nella prima parte di gara Risolve lui Ci saranno da recuperare in due minuti Interrompe l'azione con un intervento tempestivo Risolve lui pallone molto occhio alla botta grande parata questa ha recuperato il pallone senza difficoltà arbitro che dice che può sentite sentite con quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo è dalla sua espressione si capisce che nemmeno lui è soddisfatto per come è giocato oggi hanno provato a sfondare per via centrali ma sono stati fermati a sorpresa almeno secondo i pronostici della vigilia la gara sembra aver assunto una visione mia molto precisa con un dominio netto in pochi ci avrebbero scommesso prima del fischio d'inizio passaggio che non era certo tra i più precisi questo ha acevolato il suo intervento occhio alle sovrapposizioni provano ad andare è arrivato un gol comunque importante anche dal punto di vista psicologico per ripartire siamo 3 a 1 e magari non finirà così perdono palla perdono palla occhio all'intervento del direttore di gara schwarz grande parata grande riflesso super qui il portiere ancora un passaggio perfetto schwarz ha sbagliato il cross favorendo l'intervento ai riflessori perdono il possesso del pallone intervento efficace ottimo il tikitaka qui c'è pressione su di lui ancora una volta perfetto nel recupero del pallone schwarz con cui sono un buon pallone al centro campo hanno spezzato bene la trama qui è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento schwarz schwarz parte il traversone si ripartirà con caccia di punizione apre di testa pericolo ecco il tiro se avessero concretizzato questa occasione sarebbe stata virtualmente chiusa la gara strappano il pallone agli avversari ha intercettato bene il passaggio non ci voleva molto hanno esagerato qui con il tikitaka e hanno perso il pallone schwarz a metri a disposizione prova tiro respinto ma la palla è ancora in gioco ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo partiglia bene il pallone rubano bene palla ha spazio per il cross c'è il traversone schwarz e il tiro finisce sulla traversa era una buona occasione questa per consolidare il vantaggio pallone che torna in possesso degli avversari passaggio che non era certo tra i più precisi questo ha acevolato il suo intervento si libera dell'avversario grantino palla sul palo finisce sul fondo pallone controllato senza difficoltà dai difensori c'è il recupero del pallone dalla panchina della squadra di casa arriva l'ordine di aumentare l'intensità del press le intenzioni del tecnico sono chiare recuperare subito palle e ripartire in velocità da sfruttare gli spazi schwarz bravo a intercettare questo pallone non era facile salgono i compagni interrompe l'azione con un intervento tempestivo azione interromta schwarz ha recuperato il pallone senza difficoltà ottimo il tikitaka qui è riuscito a super cerca la porta respinge il difensore ottimo tikitaka conquistano un buon pallone al centrocampo gran palla questa attenzione al tiro attenzione rete ne ha preso un altro questa non è certamente la sua giornata migliore ovviamente il ruolo del portiere è delicato grande responsabilità davvero ed ecco l'intervento dell'arbitro il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita per come sta andando la partita hanno ben poco da festeggiare oltre a questa partita Alla bassa, Kroos che viene intercettato dal difensore. Hanno provato a sfondare per via centrali ma sono stati fermati. Saranno due minuti di recupero come indica il quarto uomo. Recupera il pallone con un intervento facile. Bellissimo passaggio. Pericolo, ecco il tiro. Si aggiusta il pallone, tutto pronto per il corner. Va di testa. Tiro l'arco, può ribersere. E finisce.